Vorremmo aiutare Flavio Briatore a trovare il personale per la sua nuova struttura in Salento. A Bari abbiamo Porta Futuro, un servizio pubblico di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro. Abbiamo controllato e abbiamo più di 300 curricula nel settore restaurazione ed alberghiero, di cui 99 con alta professionalità. Ci venga a trovare, sono certa che troveremo insieme la professionalità e l'entusiasmo di cui ha bisogno.